A Pergi nella Coppa Italia, a Varese il proscenio. Un po' di amarezza sportiva per i mastini, certo, ma lo sport è sport, nulla è scontato e una sconfitta, oltre ad essere sana, contribuisce a distinguere i tifosi autentici dai sostenitori di comodo. Al di là del giudizio sul ghiaccio, comunque ad aver vinto senza sé e senza ma, è il territorio. A due anni dalle Olimpiadi di Milano-Cortina, Varese conferma la propria centralità in termini sportivi e la propria efficienza in termini organizzativi. Senza contare la gratificante frequenza di eventi e competizioni di rilievo internazionale. Pochi mesi fa i riflettori ciclistici della Trevalli-Varesine, all'orizzonte i campionati di canottaggio, senza trascurare il ruolo europeo del basket bianco-rosso e appunto la consolidata rinascita dell'hockey, impreziosita da un impianto nuovo di Zecca. Tutti assi nella manica di una provincia che ha il compito di dimostrarsi all'altezza delle sue potenzialità.